ciao a tutti ragazzi oggi mi ritrovo con il mio computer appresso in questo momento perché sto facendo alcune cose comunque mi scuso per le mie condizioni per i capelli oggi volevo portarvi un video un po speciale cioè oggi parlerò di alcune cose sia per i youtuber sia per le persone in generale oggi parlerò come un telefono deve essere messo quando fa un video allora ragazzi voi molte persone si confondono sempre mettendo sempre il telefono diritto invece di metterlo in senso in orizzontale un errore che costa perché quando noi andiamo a programmare youtuber quando vanno a programmare un video esce nella parte laterale nelle parti destra e sinistra lo schermo nero è veramente una cosa che porta molto fastidio alle persone è veramente una cosa brutta allora vi consiglio sempre di mettere il telefono non diritto ma posizionato nel lato sinistro o destra comunque questa è una cosa importante questo a momento sarà l'ultimo video di questo mese che i prossimi video porterò alcune novità come forse andrò a roma fare un vlog a roma uscirà tutto il video a settembre o fine settembre poi usciranno novità sull'iphone 12 che molti dicono che sarà molto simile a iphone 11 avrai sempre solito notch davanti come apple dico sempre ma che stai combinando se sarà non è confermato sappiamo che le dato di uscita di apple quest'anno sarà molto più lunga non so precisamente il giorno che uscirà la presentazione dell'iphone 12 però dovrebbe uscire verso fine settembre un po più avanti ogni o metà settembre ottobre non so ancora specificamente vorrei anche migliorarmi dal punto di vista della qualità comprami un nuovo compiuto e far cura che usciranno alcune foto che vi farò vedere nel video comunque come un compito nuovo alcune cose che mi serviranno per i vlog avanti e il mio desiderio più grande avere un questo un computer che ora andrete a vedere nelle foto e di samsung e poi un telefono che mi sta piacendo molto in note 20 e quest'anno mi è piaciuto moltissimo schema 120 e design bellissimo esso pen migliorata veramente un dispositivo così va che a me piace moltissimo che mi piacerebbe provare con le mie mani e portarli in giro e tutto veramente sarebbe una cosa molto bella mi ringrazio per tutte le persone che si sono iscritte al mio canale continuate a iscrivervi condividere i miei video vi ringrazio con tutto il cuore uscirà il prossimo video tra due o tre settimane come avevo detto questi tipo di video vi porterò perché dovevo studiare dove iniziare cominciano tra volte gli esami all'università devo dedicarmi un po' a me stesso devo studiare molto su un libro veramente è un casino poi non vi preoccupate a settembre o metà settembre ritornerò sicuramente con altri video molto interessanti un nuovo vlog più avanti comincerò a comprare altre cose per migliorare anche la qualità dei video spero di comprarmi anche un giorno un nuovo computer dove posso scaricare i film finorra che ha pagamento è un programma molto ma molto bello molto come amico mi ha consigliato si chiama nicolas che lo potete anche seguire su youtuber e anche lui in youtube comunque un programma finorra costa sui 60 70 euro anche per altri youtube chi lo vorrebbe acquistare è un programma molto buono in cui abbiamo la possibilità io che non ho la possibilità ancora di comprare telefoni quindi non aziende che mi sopportano al momento mi piacerebbe collaborare con qualche azienda un giorno spero di comprare questo programma un giorno avere un compito migliore e che mi sopporta questo programma mi dà la possibilità di mettere i video migliori migliore qualità e per esempio portare prodotti iphone portare le immagini direttamente durante il video sarebbe in formato piccolo ovviamente sarebbe una bella figata e ragazzi con questo è tutto io vi saluto ci vediamo fra due o tre settimane e porterò nuovi argomenti nuove cose spero che il video vi è piaciuto lasciate like commentate iscrivetevi al canale e condividete i miei video ciao ragazzi ciao ciao ciao